Sarà un weekend di festa un po' speciale, ma soprattutto in nome di una buona causa quello che si svolgerà a Poggiun Bricchio di Cronialeto. La Prologo, assieme al Comune e dell'Associazione Bobass Helping the World, darà infatti vita alla manifestazione Appoggio l'Africa. Tra musica etnica e nostrana, arrosticini e couscous, si raccoglieranno fondi da impiegare nel progetto le vie dell'accoglienza, con il fine di realizzare un centro culturale e ricreativo nella periferia di Bobo Giulasso, in Burkina Faso. Saranno due serate dedicate alla musica africana e non solo, perché parteciperanno anche due gruppi del Terramano e soprattutto ci sarà la partecipazione di Ropopò. Quindi saranno due belle serate, composta da gruppi che vengono dal Benin, dalla Costa d'Avorio, dal Burkina Faso e dal Senegal. Tutto il ricavato delle due serate andrà in beneficenza per il progetto la via dell'accoglienza che si costruirà in Burkina Faso. Finora quali sono le opere che avete realizzato in questo martogliato paese africano? Abbiamo iniziato donando una radio al Comune di Bobo Giulasso, dove il Comune da marzo è andato in funzione e quindi il Comune potrà dare informazione a tutta la popolazione. Dopodiché abbiamo fatto una struttura a 5 km dal Ghana, dove lavorano un'associazione di 150 donne per l'attrezzatura sia per macinare i farinaci e sia per l'attrezzatura per il burro di Carité. Ancora una volta il piccolo borgo di Poggiunbricchio, incastonato nel cuore del Gran Sasso Terramano, farà sentire la propria vicinanza alle popolazioni africane del Burkina Faso. Un orgoglio, è qualcosa vedere in pratica delle persone che abbiamo visto solo nei documentari e vederle appoggio e in più fare del bene, fare in modo che persone che non hanno da mangiare e da bere con il nostro contributo riescono a stare meglio e è una soddisfazione. Sindaco, la montagna che ospita un pezzo d'Africa? Partecipare a questo grande progetto per la realizzazione di una struttura che viene realizzata nel paese di Burkina Faso, in Africa, appunto per ospitare i ragazzi meno fortunati dei nostri, quindi dare loro la possibilità di riscatto, di rivincita, la possibilità di crescita, di acculturarsi e di conoscere altri territori e diversamente, insomma, conosciamo lo Stato. Una bellissima iniziativa, spero che ce ne siano delle altre e soprattutto che il mio territorio risponda a dovere per dare il giusto contributo a questa iniziativa.